Sei su Voci.fm Voci.fm ha più volte messo in evidenza come le qualità di un set vocale, soprattutto in post-produzione, dipenda anche dal feedback che restituiscono gli audio monitor del nostro studio. In questo post parliamo di un prodotto molto interessante del noto marchio JPL, le casse acustiche LSR305. Molti sanno che i monitor professionali JPL sono da sempre uno dei sogni di chi lavora con l'audio, però, visti i prezzi piuttosto alti, ognuno di noi è stato costretto più volte a rimandare l'acquisto. Adesso la questione è cambiata, ed inetto. Con le LSR305 JPL, presenta una linea di audio monitor di alto livello dal rapporto qualità-prezzo imbattibile. E finalmente si avvere il sogno di una coppia di JPL anche sul banco del nostro home studio. Con vera gioia, apriamo la confezione ed estraiamo la nostra cassa JPL. Design moderno ed accattivante, livrea completamente nera, con Twitter a tromba e woofer che la fanno da padroni. Sulla scatola leggiamo con piacere che questo modello impiega il sistema ICW, che abbiamo avuto modo di apprezzare su monitor ben più costosi. È una tecnologia che migliora la resa sulle alte frequenze e permette un controllo preciso dell'ambiente tridimensionale. All'atto pratico, il suono che esce dal Twitter da un pollice risulta sempre definito e posizionato esattamente dove ci serve. Il woofer 13 cm di diametro sfrutta il sistema Reflex Sleep Stream per produrre una gamma bassa di notevole impatto sull'ascoltatore. Se chiudessimo gli occhi, non avremmo proprio la sensazione di ascoltare un piccolo 5 pollici. L'ottima qualità del segnale in uscita è garantita anche dal circuito di amplificazione, che offre una potenza di oltre 80 Watt di classe D. Davvero niente male. Possiamo controllare i toni e volume tramite i semplici comandi sul retro del monitor, che ospita anche gli ingressi bilanciati XLR-TRS. Colleghiamo tutto e spostiamo l'interruttore su ON. Come prevedibile, il rumore di fondo è pressoché impercettibile e la nostra voce, registrata poco prima, è pronta per l'editing. Esce lineare, ma con la giusta potenza. Anche aggiungendo una base musicale di sottofondo, otteniamo un suono pulito e ben definito. Certo, volendo essere particolarmente pretenziosi, si nota una modesta alterazione sulla gamma media, ma stiamo pur sempre parlando di un sistema a due vie dal costo decisamente contenuto. Il nostro ultimo test ha portato le LSR 305 sul banco di regia di un'emittente radiofonica. Anche nel ruolo di spie broadcast, le piccole JBL convincono alla grande, rappresentando una delle migliori scelte low cost attualmente sul mercato. Provatele, e siamo certi che farete come noi, che abbiamo deciso di acquistarle subito e metterle immediatamente in pista. Belle, convenienti, versatili. A questo prezzo è davvero difficile chiedere più di una JBL LSR 305. Vuoi conoscere le ultime novità e gli strumenti must per lavorare con la tua voce? Segui il Voce FM, il sito delle voci.